e Ragusa Ibla prende tutti i vantaggi, non vogliamo rubare e togliere turisti a Ragusa ma possiamo raccontare che Vigata sta a Porta Empedocle, ai Camilleri Fans Club che ci sono pure ad Aosta possiamo raccontare che venendo a Porta Empedocle possono camminare sulle pietre che hanno ispirato Andrea Camilleri ecco questo è il progetto in grande sintesi, però occorre che albergatori, ristoratori, proprietari di B&B occorre che gli artigiani, occorre che tutte le forze produttive, agenzie di viaggio si mettano insieme e cerchino di costruire una rete senza pensare di dover chiedere contributi pubblici Il inquisitore Cisneros, ma appunto durante l'interrogatorio accade qualcosa che non è mai accaduto nella storia dell'inquisizione con i suoi ferri riesce a spaccare il cranio a Cisneros, all'inquisitore e Shasha scrisse morte dell'inquisitore ecco perché a me piace ricordarlo Assume Diego Lamattina come simbolo di libertà intellettuale spirituale e Fradiego Lamattina può diventare per esempio un riferimento per gli studenti così come i testi di Pirandello per alimentare l'interesse di una scolaresca per esempio da portare poi a Racalmuto e fargli vivere quelle pagine portandolo davanti alla grotta di Fradigo Lamattina magari con una piccola cooperativa teatrale mettere su il testo di Mario Gazziano magari farlo nel castello di Chiaramontano che è un po' esatto l'importante è mettere a rete tutto questo volevo precisare perché io ho pochi meriti che si tratta di un dopodramma che è la conduzione del dramma e sono le note proprio da morte dell'inquisitore noi seguiamo lo sviluppo di morte dell'inquisitore con le bellissime immagini disegnate da Andrea Carisi al tempo degli anni 70 quando il giornale di Foglieton il Foglieton pubblicò pure la mattina di Natori su cui Chiaramontano dà giudizi non molto leggere e quindi c'è questa nota di conduzione diffusa con le immagini da morte dell'inquisitore quindi viene molto più Chiaramontano e molto meno l'inquisitore